Ciao ragazzi, oggi sono la concessionaria all'auto per raccontarvi di un'imperdibile promozione su ID Family, la gamma 100% elettrica di Volkswagen. Partiamo! ID3, il primo modello della gamma, e attenzione perché questo modello beneficia in questo periodo dell'econcettivo statale. Passiamo a ID4, il primo SUV 100% elettrico della gamma Volkswagen. È disponibile qui all'auto in pronta consegna. E infine, attenzione attenzione, il nuovissimo SUV Coupé ID5, verrà presentato in autunno, ma oggi lo vogliamo qui per voi in anteprima. A luglio-agosto, sulla gamma ID Family, c'è un'incredibile offerta di nolleggio, la formula tutto compreso. Pensate che a partire da 438 euro al mese avrete un canone comprensivo di tutti i servizi. Assicurazione, e intendo RC, furto, incendio, cristalli, attivandalici e casco. Manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione delle multe, perciò con 438 euro vi dovete solo ricordare di caricarla. Ah, l'anticipo è zero! La concessione dell'auto vi aspetta nelle tre sedie di Cantulli, Poma e Rovello Porro per farvi provare le elettriche di ID Family. Trovate tutti i dettagli sul sito l'auto.it. Perciò amici, ci vediamo a settembre per il lancio delle ID5 e nel frattempo non fatevi sfuggire la promozione sul nolleggio. Ciao!